10 agosto 1860. Viene eseguita all'alba dal battaglione capeggiato da Nino Bixio la sentenza di morte contro i cinque presunti capi della rivolta di Bronte, il paesino nel Catanese che nei primi giorni d'agosto era insorto contro i latifondisti inglesi. Il tumulto aveva provocato 16 vittime. Bixio ha ordine da Garibaldi di punire in modo esemplare i responsabili della rivolta, sia per motivi di ordine pubblico, sia per proteggere gli interessi degli inglesi, che tanto avevano sostenuto l'impresa dei mille sul territorio.